3 la facciamo di cominciando la porta a lui la passa a te e io la passa a me io la passa a me la passa a Lorenzo Lorenzo la passa a me Lorenzo la passa a me questo lo metto la persista oh è giusto dai 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 ciao voglio vedere chi accadda ragazzi non c'è io c'è stato qua ecco l'ultimo il gatto non è un anno